Insomma, parliamoci chiaro, tutti i politici prendono posizione sulle questioni della RAI con tutto quello che succede. È la prova che l'editore dell'azienda del servizio pubblico televisivo è la politica, è il Parlamento. Ed è questo il problema. Si discute sulle nomine dei direttori pensando al referendum, non pensando all'informazione sui fatti internazionali, sulla cronaca, sull'economia. Si pensa alle altre nomine pensando alle scadenze politiche. Finché la politica sarà l'editore della RAI ci possono essere i giornalisti più bravi del mondo. Alcuni ne abbiamo visti proprio in questa edizione del telegiornale, che sono della RAI. Ma il problema resterà sempre lo stesso.